Sono Niccolò Fabris e se fossi stato un personaggio storico sarei Roosevelt perché lui a partire dal 1933 ha fatto rifiorire l'economia americana grazie al New Deal facendola diventare una vera e propria potenza economica. Questo è stato possibile grazie al fatto che lui si è posto degli obiettivi ben definiti e li ha portati a termine nei migliori dei modi. Inoltre lui era un uomo molto calmo ed ottimista e ha avuto un ruolo molto importante nella mediazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui mi rispecchia molto perché anche io sono un ragazzo molto calmo ed ottimista ed inoltre mi piace molto il dialogo e trovare compromessi con gli altri. Inoltre come Roosevelt mi pongo degli obiettivi molto ben definiti e mi piace portarli a termine nei migliori dei modi.